Ehi! Scapperà via! Ehi! Voglio giocare! Oh, invece rimane lì! Attenta, ti colperà con la zampa, Lisa! No! Guarda, guarda, guarda! Va tutto bene! Va tutto bene! Attenta! Ma tanto non scappa, vero? Lo so! Non andare! No! Sei fermato quando hai detto no! Hai urlato no! Ok, rimango qua! Non andare! Resta qui! Basta, Lisa! È veramente strano, no? Era un gatto amichevole ma abita all'aperto Per questo è molto feroce, ecco Ciao! Ok, sono Saira e vi ricordo di seguire il canale se vi va Di seguirmi su Instagram se vi va Di seguire il cuore caramel caffè, ragazzi! È incredibile! Faccio una maid! E anche di seguirmi sul sito Viole innominabile! Tra qua Qua apro il canale! Tutti i link in descrizione! Ciao belli! Oh 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 oh!